Amici di Youtube, grazie ai mille iscritti, siamo netti mille iscritti Amici, abbiamo beccato una bella quota del Benevento X2, quella è andata a buon fine Ma Milan-Atalanta abbiamo visto in due Che ha pareggiato uno a uno Peccato, peccato, non è andato Comunque, questa mattina abbiamo vinto un po' a virtuale calcio Vi voglio farvi vedere i soldi giocati ieri L'ho riguadagnati, amici, l'ho riguadagnati oggi Io vi voglio farvi vedere la verità Io non mi nascondo ai muri come fanno tanti altri Tanti altri della concorrenza La bravura c'è, e come che c'è? Un attimino, vengo subito e vi faccio vedere Della UED vi voglio farvi vedere quanto ho puntato sulla UED Vi voglio farvi vedere, ok? E poi, quanto ho vinto oggi a virtuale, ok? Ecco a voi, amici, ecco a voi, ecco a voi Ieri ho giocato questo, eh? Io ieri l'avevo fatto così L'avevo fatto Che non l'avevo fatto vedere la giocata Adesso ve la faccio vedere Non è andata però, io ho puntato, amici Io ho puntato, vedete? Principe 53, ok? Adesso vi faccio vedere anche la vincita del virtuale di stamattina Questa 100 l'ho ricoverata comunque Ah, poi, questa sera ho giocato così Qui, guardate Che abbiamo perso per il Milan Atalanti 2 10-5 Più 110 15 giorni prima 116 Amici, mi trovate? Io non vado a perdere Adesso vi faccio subito Il video che ho fatto stamattina Vengo su Guardate, ecco qua Il gioco virtuale Ho giocato i primi due gol Sambatore a Chievo Gol, gol Vi faccio vedere Brocco proprio l'immagine Cerco di bloccare l'immagine Della schieria che si deve vedere Un attimino 80 euro Vedete? I primi due gol Vedete? L'ho fatto per di velocità questo video Non mi sono accorto Vedete? Altre 20 euro Che c'ho appunto 5 euro Vedete? Eh? Vedete? Ok, se vi sto bene Sì 80 più 20 ho vinto I primi due gol Guardate Amici Guardate 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 Ok, si vede Si vede Si vede Ecco qua ho vinto i 100 euro Ok Vamos Eh Eh Eh, ho ricoparato amici Eh, ho ricoparato Guardate amici Come avete visto Ehi Marco Un giorno non si vede Ma Eh, eh, eh Stavamo ancora a 6 euro di ieri Più 100, 106 Arriva a 116 Sto di perdere solo di 10 euro Se andiamo a fare tutti i cali Qualche 116 euro di vinci dai giorni prima Mi ha risultato esatto Comunque sono andato pari Importante andare pari Amici E non ho perso nulla Ok, è chiaro? Per questo io dico Mi dovete contattare Ma vi faccio il numero di whatsapp Mi dovete contattare Se volete vincere 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 Ma ecco Scusate Ecco a voi Il numero di telefono Ve lo do subito Amici Non me lo ricordo a memoria E ve lo dico E ve lo dico subito Ecco a voi Mi contattate su whatsapp Mi ha mandato un messaggio E io vi do la previsione Amici 3, 2, 7 1, 9 8, 9 1, 6, 4 Ripeto 3, 2, 7 1, 9 8, 9 1, 6, 4 E vincete E Stavamo ancora su canale youtube Il numero amici Ok Bacioni E buona serata Ciao Vamos